Proseguono gli interventi nel comune di Arcola per la messa in sicurezza del torrente Rio Maggio e delle località di Battifollo e Romito. Questa mattina l'assessore regionale alla protezione civile e difesa del suolo Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo per valutare l'avanzamento dei lavori. Le opere hanno preso il via nel mese di luglio per una durata complessiva di due anni di lavori. Si tratta del secondo lotto del primo stralcio funzionale dell'arginatura per la messa in sicurezza dalle piene duecentennali del Magra delle località Battifollo e Romito tra il ponte della ferrovia e il cimitero di Romito Magra nel comune di Arcola. Un'opera del valore di 5,8 milioni di euro stanziati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile attraverso Regione Liguria. Sono fondi di protezione civile lo dico anche con un pizzico di orgoglio perché siamo riusciti a invertire la tendenza di usare somme per le emergenze solo ed esclusivamente per ricostruire quello che c'era prima di un evento estremo. Oggi noi usiamo fondi di protezione civile per aumentare la resilienza del territorio. Sono 5,8 milioni in questo caso il finanziamento ed è un adeguamento di messa in sicurezza della sponda destra del fiume Magra. Di fatto è una delle opere che metterà in sicurezza l'abitato di Arco e parliamo ovviamente di opere strutturali gestite direttamente dal settore di difesa del suolo di Regione Liguria. I lavori consistono nell'adeguamento del tratto terminale del torrente, l'adeguamento delle sezioni idrauliche per la piena duecentennale sarà realizzato mediante l'allargamento e l'approfondimento della sezione esistente sia nel tratto tombinato sia in quello a cielo aperto. I lavori saranno completati con la realizzazione del nuovo manto stradale. Attualmente sono in corso gli interventi finalizzati all'adeguamento della sezione di deflusso del tratto terminale del torrente. L'opera che fa parte di questo intervento strutturale importante di arginatura rispetto al fiume Magra è importante nel suo complesso perché significherà che l'argine rispetto al fiume Magra sulla zona di Arco la verrà completato. L'intervento su questo tratto di canale è un intervento ovviamente complementare che dà una risposta e che sarà però per quanto riguarda insomma tutti stiamo convergendo un primo intervento per risolvere anche il problema del rio Maggio. Quindi sono due contesti che si vanno a sovrapporre.